Per aumentare la verosimiglianza del nostro soggetto in un contesto d'altri tempi andiamo a fare un piccolo fotoritocco, andiamo a costruirgli sopra dei baffi. Io adesso andrò ad eseguire questo fotoritocco in maniera un po' veloce, giusto per dare un po' l'idea di quello che voglio eseguire. Sicuramente voi avrete modo e tempo di eseguire un'operazione di questo genere in maniera molto più dettagliata. Mi porto un sopracciglio del soggetto su un livello superiore e comincio a deformarlo ed adattarlo alla forma che voglio fargli prendere. Dopodiché copio questo sopracciglio e sempre con trasformazione libera vado a ribaltarlo nell'asse orizzontale. Ecco, a questo livello del lavoro mi preoccupo soltanto di dare la forma giusta al mio baffo un po' posticcio. Mi occuperò successivamente della sua verosimiglianza. Possiamo unire i miei due baffi in un unico livello e rinominiamole per non confonderci. Dopodiché possiamo lavorare un po' su una maschera di livello per riuscire a controllarle meglio. Voi costruirmi prima la maschera, molto bene. Ecco, un trucco per risolvere questi problemi di incongruenza di luci è quello di assommare le densità dell'elemento superiore, in questo caso i baffi, in modalità moltiplica, giusto per creare una specie di ombra che accolga quello che adesso andremo a mettere sopra, cioè una copia esatta dei baffi, ma questa volta in modalità normale che andremo a mascherare molto di più e molto più intensamente. Ecco, ho fatto. Chiaramente anche le parti in ombra dei baffi vanno un po' lavorate. E per ultimo calibriamo un po' l'opacità delle parti più chiare dei baffi superiori. Ecco, non è che sia avvenuto un lavoro assolutamente impeccabile, ma diciamo che per lo scopo che ci prefiggiamo può essere sufficiente. Attenzione ai dettagli. Ora aggruppiamo via via quello che facciamo in gruppi e livelli sempre con dei nomi per non perderci.